Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi faremo vedere gli animali della nostra fattoria. Andiamo! Adesso vi faremo vedere le uova che sono incubatrici. Queste uova qua che vi ho fatto vedere nasceranno in pulcini tra circa 20 giorni, 21, e una parte delle uova, 30 pulcini, sono già nati. Adesso ve li faremo vedere. Nel collaio ci sono le galline, i galli, anche i pulcini. Vi farò vedere quando prenderò i pulcini. Faccio vedere uno dei pulcini che sono appena nati, che si chiama Neretto. Adesso lo metto dentro dalla sua fattoria. Questi pulcinelli qua minuscoli sono un po' più piccolini di quell'altro che vi ho fatto vedere prima. Bellissimi! Questa è un po' più grande di quelli grigio e nero di prima. Quello che si chiama Baby. E qui ci sono altre galline. Quello più grosso lì è il gallo, qua gli altri sono tutte galline. Mi farò vedere i nostri danni. I tuoi vicini sono due femmine, anche quella lì piccolina è la più piccola. E qui ci sono due femmine. Qui ci sono le nostre tre cavalle. Musica Ora vi farò vedere i conigli che sono là. Lei è una coniglia che si chiama Grigetta. Lei è un'altra coniglia che si chiama Marroncina. Lei è una cavia che si chiama Macchia. Asino e ora lei torna la capetta. Grazie no. Musica Qui c'è il vitello che beve il latte. Musica Qui ci sono le cabbie. Musica Questa è l'ultima capretta che è nata. E lei è la sua mamma ovviamente. E si chiama Bianchetta. Musica Lei è uno dei cani della fattoria e si chiama Birba. E lei, che è un altro cane, si chiama Lupa. E lei, infatti, loro si assomigliano perché sono lei la mamma, lei la mamma. E questa qua giocarellona è la figlia. Birba, 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 birba. Ui, ui, ui. Musica E una canonina anche lei della fattoria Birba. Si chiama Macchia. Macchia E' un piccolino. Bravo. Il cane è della fattoria e si chiama Brida. E' rotatona. Eh? Ciao piccolino. Ciao. Ciao tutti e due. Questi sono i gatti. Sono circa 17 gatti ma sono selvatici. Musica 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 Ci sono due papagalli che sono dentro la godiera. Di qua ce ne sono uno. Di là ce ne sono due. In questo momento non ci sono perché sono dentro là che stanno covando. Musica 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 Musica